Benvenuti, oggi è una giornata molto particolare, presentiamo e i nostri amici presentano con maggior acutezza della mia una nuova pubblicazione che prende luce sul catalogo ragionato di Morandi. Il catalogo generale ha già avuto una pubblicazione anni addietro, questa è una pubblicazione specifica sulle opere catalogate dall'85 al 2016. Tutte queste imprese non sono solamente dei libri, sono proprio delle imprese cioè che accompagnano e definiscono anche proprio le vite di chi le fa per la dedizione, il tempo che necessitano. Quindi siamo ben felici di dargli spazio qua in un luogo in cui il tempo si è sedimentato così per tanto tempo e ha fatto sì che questo luogo diventi proprio una dimora speriamo sempre aperta all'arte. Non ho niente da dire sullo specifico perché attendo tutte le avventure che è una pubblicazione del genere comporta. Quindi intanto benvenuti, lo ripeto, e benvenuti ai nostri ospiti che ci allietteranno il pomeriggio.